amici di bc live benvenuti oppure ben ritrovati sul nostro canale unboxing 10x 10 consigli per l'abbigliamento da ciclismo urbano da utilizzare nei mesi invernali con freddo e pioggia benvenuti in questo nuovo video di bc live.it sono pietro francese redattore tester del mondo cicloturismo che cos'è unboxing 10x è una serie di video che troverete qui sul nostro canale youtube dove insieme ai miei colleghi sergio viganò e claudio riotti vi portiamo e presentiamo 10 prodotti che vi consigliamo da utilizzare in vari ambiti per noi ciclisti urbani che ci spostiamo in città in bicicletta in un ambiente già a noi abbastanza ostile il freddo la pioggia non devono rappresentare un problema e quindi ho selezionato per voi 10 prodotti da indossare che vi permetteranno di pedalare agevolmente anche in condizioni atmosferiche avverse prima di cominciare una doverosa precisazione per questo video abbiamo selezionato 10 indumenti ipotizzando un utilizzo da parte di un ciclista che si reca a lavoro appunto in bicicletta percorrendo 7 chilometri da casa a lavoro e ritorno questa selezione abbiamo scelto anche indumenti facili da utilizzare e da portarsi con sé per un utilizzo in ufficio quindi non difficili magari per cambiarsi una volta arrivati sul proprio posto di lavoro quindi partiamo con il primo indumento che vi consigliamo ovvero la maglietta termica la maglia termica ha la capacità fondamentale di proteggere il vostro corpo dal freddo ma non solo se non si indossa un intimo adeguato sul proprio corpo la traspirabilità sarà più difficile e questo impedisce una corretta regolazione della temperatura del corpo questo che cosa provoca il sudore noi vi consigliamo di indossare sul vostro corpo come layer di base un prodotto confortevole e morbido ma soprattutto che appunto vi aiuti a regolare quella che è la temperatura corporea di maglie termiche sul mercato ce ne sono veramente tantissime io indosso una maglietta termica abbastanza base di decathlon ma che fa comunque molto bene il suo lavoro per chi invece non è freddoloso come me e vuole indossare magari una maglia termica senza avere le maniche ci sono altri prodotti come ad esempio maglie termiche smanicate quindi trovate il prodotto che fa al caso vostro alla vostra comodità e al vostro comfort le maglie termiche negli anni sono via via diventate sempre più tecnologiche alcune adesso hanno anche inserti in grafene ma se c'è una cosa che vi consiglio di controllare quando scegliete una maglia termica è quella che abbia delle cuciture piatte in questo modo aumenterà ancora di più il vostro comfort la maglia termica è l'unico prodotto che vedrete in questo video che sta a contatto con il vostro corpo adesso andremo a presentarvi altri prodotti che proteggono l'esterno quindi sono quelli che staranno più a contatto con gli agenti atmosferici il primo che vediamo è la giacca rain over di tucano urbano la rain over è costruita al 100 per cento in poliestere ripstop con trattamento idroscud per essere anti vento e traspirante testata su elevate colonne d'acqua la sto testando da diversi mesi e posso dirvi che la costruzione è davvero ottima in particolare abbiamo una cerniera con trappolanti acqua e cuciture nastrate anche sul collo la traspirazione della giacca per evitare di farvi sudare è in doppia rete di poliestere che vedete qui all'interno e da una sensazione di comfort e calore allo stesso tempo io la trovo davvero davvero ottima il taglio con cui è fatta questa giacca rain over è per i ciclisti urbani quindi con molte regolazioni per farvela sentire comoda e aderente ma senza darvi fastidio in particolare abbiamo il velcro sui polsini ma anche qua in basso abbiamo un elastico che serve per rendervela più aderente alla zona lombare una delle cose che mi fa adorare veramente questa giacca anti vento e anti pioggia è la presenza delle tasche laterali che troviamo veramente su pochissimi prodotti anti vento e anti pioggia abbiamo un flap qua che aiuta a proteggerle meglio e trappola anti acqua anche sulla cerniera quindi diciamo che il contenuto delle vostre tasche sarà sempre protetto due tasche laterali e tasca interna questa giacca ha tutto il necessario per portare cellulare documenti insomma c'è spazio veramente per tutto oltre alla costruzione che è completamente anti vento e anti pioggia particolare attenzione poi è stata fatta alla visibilità oltre al colore che già di per sé abbastanza visibile qua sulla schiena abbiamo degli inserti catarifrangenti che aumentano appunto la vostra visibilità in città se state cercando la giacca definitiva per andare in bicicletta in città beh questa questa vela straconsiglio e dopo la giacca un'altra importante cosa da considerare quando si pedala in bici in inverno è la protezione delle maniche insieme ai piedi sono le estremità del nostro corpo quindi vanno protette i guanti di santini in imbius sono perfetti perché sono 100 per cento impermeabili con un doppio strato di membrana idro repellente e anche delle cuciture termonastrate che quindi impediscono all'acqua e alla pioggia di entrare dentro hanno anche questa parte interna che aiuta a riflettere quello che è il calore del corpo e quindi aumentare la sensazione di calore come vedete il polsino è molto elastico e sono anche molto compatti e estremamente leggeri e nonostante questa loro leggerezza riescono a tenere calda la mano anche in condizioni di temperatura diciamo fino agli zero gradi poi se fa più freddo vi consiglio di tenere un altro paio di guanti in tasca magari più pesanti da poi togliere durante la pedalata perché questi vi garantiscono un ottimo controllo dei comandi freno cambio sono cose fondamentali quando si pedala da avere sempre sotto controllo quindi fate molta attenzione quando scegliete i guanti questi sono ottimi e tra l'altro permettono anche di utilizzare il touchscreen tramite degli inserti che permettono di far navigare il dito sullo schermo come se avessimo le mani scoperte vi lascio tra l'altro in descrizione come tutti i prodotti che trovate all'interno di questo video e parlando di abbigliamento da avere non si può e non si deve dimenticarsi di parlare del casco io utilizzo ormai da qualche mese questo met gran corso casco che è stato lanciato qualche anno fa ed è specificatamente indicato e anche certificato per essere utilizzato con i bike partiamo innanzitutto dalle differenze rispetto a quello che è un casco un po più normale si può vedere subito che ci sono meno prese d'aria questo che cosa vuol dire vuol dire che c'è meno circolazione di aria quindi aiuta a mantenere meglio diciamo la temperatura è più caldo tra virgolette passatemi il termine rispetto a un casco convenzionale quindi d'inverno la sensazione che si ha è quella di mantenere di più il calore all'interno qua nella parte superiore della testa ha una serie di caratteristiche che secondo me lo rendono interessante per l'uso urbano in inverno quindi mesi invernali dove ci sono meno ore di luce quindi per esempio qua sulla parte posteriore può essere facilmente integrata una luce usb che aumenta la visibilità ma non solo dentro è molto comodo abbiamo una calotta con questi inserti che sono veramente morbidissimi e non mi fanno sentire la pesantezza del casco ma detto che rispetto a un casco convenzionale come quello che avete visto prima è leggermente più pesante è vero però è anche vero che a me dà una sensazione di sicurezza maggiore molto comodo anche l'aggancio che è magnetico davvero bellissimo da utilizzare una volta che scoprite questo tipo di aggancio non tornate più indietro perché rispetto alla solita clip magari anche ecco da infilare con i guanti che d'inverno tendenzialmente utilizzate se andate in bicicletta in città beh è veramente un un bel cambiamento altra cosa interessante è la possibilità di rimuovere questa visiera per montare un magneticamente un ulteriore visiera che permette di coprirvi gli occhi quindi aiuta a sentire meno il vento gelido che d'inverno può dare veramente molto fastidio io devo togliere gli occhiali per metterla però così facendo stringo bene allaccio in questo caso la sensazione di copertura è totale il casco che sembra una cosa molto personale quello che mi invito a fare io è provare a trovare un casco che vi faccia sentire veramente sicuri ecco un casco pesante come questo magari non può piacere a tutti però a me da una sensazione di sicurezza in più che in città in inverno magari nel traffico mi fa sentire fondamentalmente molto più sicuro prima di introdurre l'altro prodotto vi ricordiamo che comunque il casco non è obbligatorio per legge però non vi consigliamo sempre di utilizzarlo specialmente in un ambiente come la città che diciamoci la verità può essere molto pericoloso ci sono molte variabili in ballo che non dipendono solo da voi magari dal brutto tempo ci sono tante macchine il traffico insomma il nostro consiglio è di utilizzarlo sempre per avere maggiore sicurezza passiamo adesso ad un altro prodotto che va in tandem con il casco e secondo me perché l'ho provato negli scorsi mesi è perfetto per l'utilizzo in città allora innanzitutto partiamo da questa tasca molto comoda molto leggera tra l'altro e questo prodotto è il BART sviluppato da Tucano Urbano è un copricasco elastico in tecnologia idrostretch quindi mantenendo una forma elastica indicata per adattarsi a qualsiasi forma di casco riesce a proteggerlo e soprattutto a rendere impermeabile la superficie esterna anche di un casco che rispetto ad altri caschi che ci sono in circolazione è molto grande perfetto in questo modo tutta la parte superiore del casco è impermeabile quindi non entrerà pioggia ma attenzione non entrerà nemmeno vento e secondo me è una cosa perfetta da avere a parte che occupa veramente pochissimo spazio da tenere con sé sempre nello zaino a portata da uno sottovalutare anche questa semplice ma efficace visiera che vi protegge dal sole magari una giornata come questa se il BART preferite tenerlo sempre su perché magari è una giornata di sole ma magari fredda e quindi volete proteggervi la testa dal vento ma vi protegge anche dalla pioggia quindi nel mio caso che indosso gli occhiali è utile per bloccare l'acqua che rischia di finire sugli occhiali io lo trovo perfetto semplice efficace comprimibile ragazzi pesa veramente niente da tenere sempre nel vostro zaino diciamo anche questo in realtà in commercio ne sono tanti di copri casco impermeabile ma questo di Tucano Urbano a me piace tanto soprattutto perché a parte che funziona molto bene perché l'ho usato negli scorsi mesi costruito veramente molto bene elastico perfetto per adattarsi comodamente a qualsiasi casco inserti riflettenti insomma una cosa semplice ma con dei dettagli che lo rendono perfetto da utilizzare in tutti i mesi invernali e se volete da mettere una volta sul vostro casco ve ne dimenticate e lo togliete una volta che è finito l'inverno un'altra cosa poi è che è traspirante l'interno è traspirante aiuta a far passare il calore che generate e quindi a farvi sudare di meno perché un'altra cosa che può succedere è rendendo impermeabile il vostro casco la vostra testa contribuire a sudare di più perché se il casco è coperto da qualcosa che è impermeabile non fa passare il sudore e quindi necessariamente e quindi ovviamente aiuta a traspirare meno l'aria quindi aumentare la sensazione di calore quindi farvi sudare di più bene con questo Bart non succede e a me piace molto anche per questo dopo il casco in inverno è molto importante anche il sottocasco io utilizzo ormai da qualche mese questo della Buff in tecnologia Thermonet Primaloft di sottocaschi ne ho provati tanti nella mia vita ma questo mi dà una sensazione di calore assoluta soprattutto grazie alla tecnologia che c'è dietro come avete visto è reversibile il tessuto poi è stretciabile a quattro vie per aumentare ancora di più il senso di comodità e di calore attorno al vostro capo completano le caratteristiche il trattamento antibatterico, antivento quindi aiuta ad aumentare ancora di più la sensazione di calore e anche la traspirabilità che ricordiamo sempre è una caratteristica da tenere in considerazione specialmente se lo mettete sotto un casco quindi questo contribuisce ad avvolgere ancora di più la vostra testa aumenta il calore che il vostro corpo emette aiuta a diminuire la sensazione di sudore una cosa che non ho detto tra l'altro è guardate quanto è elastico e va perfettamente a coprire anche le orecchie una parte che almeno nel mio caso che sono molto freddoloso alla mattina sento particolarmente fredda quando inizio a pedalare magari nelle prime ore della giornata il fatto che sia molto elastico e appunto abbia lo stretch a quattro vie lo rende in grado di coprire tutta la testa quindi già di per sé lui è molto caldo se poi ci aggiungete sopra il casco beh la sensazione di calore aumenta alla grande segue la stessa filosofia del sottocasco di buff anche lo scaldacollo buff dry flex che è fatto in un tessuto multifunzionale molto interessante le caratteristiche tecniche sono simili a quelle del sottocasco in più però abbiamo degli inserti catarifrangenti e se pensate di utilizzarlo non solo come scaldacollo ma anche come bandana magari per proteggervi la testa in mancanza di un sottocasco beh l'aggiunta di inserti riflettenti vi fa sentire aumenta la vostra visibilità e quindi di conseguenza vi aiuta a sentirvi più sicuro non solo come il sottocasco è anche lui stretchabile a quattro vie e tra l'altro non ha neanche cuciture quindi è ancora più comodo è traspirante come potete vedere sono completamente assenti le cuciture ed è realizzato da un unico pezzo di tessuto quindi senza cuciture si evita che queste vadano a sfregare con la pelle e quindi possano creare irritazioni la caratteristica che però stiamo vedendo importante da non sottovalutare che trovate in tutti i prodotti in questo video è la traspirabilità è molto traspirante e mi piace come ti riesca a dare una sensazione di calore e allo stesso tempo ti aiuti a sentire meno il vento è molto comodo, molto stretchabile, anche lui ha quattro vie e ha anche una particolare protezione che aiuta a proteggere la vostra pelle dai raggi ultravioletti quindi è secondo me lo scaldacollo definitivo da utilizzare tutti i giorni in città va da sé che ha un prezzo magari leggermente superiore ad altri prodotti che trovate sul mercato ma secondo me è qualcosa di veramente completo per la città materiale riflettente, comodo, stretchabile, traspirante, aumenta la sensazione di calore e vi protegge anche dai raggi ultravioletti non solo quindi adatto secondo me per essere utilizzato in città, in bicicletta ma anche nella vita di tutti i giorni magari per fare qualche escursione sportiva in ogni caso rispetto ad altri scaldacollo che ho provato tantissimi in questi anni la leggerezza è maggiore ma allo stesso tempo la sensazione di calore che restituisce è maggiore quindi un prodotto veramente ben fatto da Buff tra l'altro al 95% in poliester riciclato perché Buff sta intraprendendo una politica molto attenta all'ambiente infatti la stragrande maggior parte dei loro prodotti adesso vengono da materiali riciclati da non sottovalutare perché noi ciclisti amiamo l'ambiente, stiamo a contatto con la natura aiutiamo anche a rispettarlo passiamo adesso alla parte bassa del corpo e parliamo di pantaloni impermeabili ideali per la pioggia ma anche quando fa freddo questi sono i Panta Nano Plus di Ducano Urbano e guardate quanto sono piccoli che sono veramente ultra compatti in questa custodia pratica da tenere sempre nello zaino che si sfila col cordino eccoli qua, adesso vado ad indossarli per farvi anche vedere quanto si indossano facilmente quindi delle scarpe ed eccoli qua, in pochi secondi li ho indossati sono veramente ultra leggeri nel senso che ci sono diversi tipi di pantaloni impermeabili sul mercato però questi sono veramente leggerissimi oltre che super compatti qua sui lati c'è poi un soffietto per facilitare la vestibilità anche se come avete visto sono molto facili da indossare e hanno poi alcuni inserti catarifrangenti in prossimità della chiusura con lo strap trappolanti pioggia sulla cerniera e cucitura nastrata che è ad elevata colonna d'acqua quindi permette di rendere i pantaloni completamente impermeabili tra l'altro questo pantalone è compatto, molto leggero e facile da indossare, facile da utilizzare molto comodo di agevolare i movimenti li trovo online oppure acquistabili direttamente dal sito di Tucano Urbano ad un prezzo veramente molto interessante e oggi vi parlerò dell'abbigliamento impermeabile di Tucano Urbano continuiamo a stare sulla parte bassa del corpo e andiamo a parlare di scarpe io ho una filosofia un po' particolare prediligo scarpe comode che mi facciano sentire sicuro e in una posizione abbastanza rigida al piede mentre pedalo utilizzo da diverso tempo più di un anno le Salomon mi piace molto come marca che sono scarpe un po' più da outdoor non sono vere scarpe da bicicletta ma hanno delle caratteristiche molto interessanti anche per chi le utilizza in città magari tutti i giorni per esempio suola con un buon grip e anche una buona rigidità del tallone e della caviglia questo vi serve per imprimere maggiore potenza quindi fare meno sforzo sulla pedalata ma altra caratteristica da non sottovalutare che hanno sia questo paio che questo paio che si chiama Traster 2 della Salomon è che sono in Gore-Tex il Gore-Tex è un materiale che aiuta a rendere la scarpa impermeabile senza dimenticare la traspirabilità ancora una volta la traspirabilità è molto importante da scegliere nei vostri prodotti e diciamo che il Gore-Tex non è che vi lascia il piede asciutto dopo un diluvio assolutamente no però per esempio se entrate in una pozzangra o in caso di una giornata con una pioggerellina abbastanza leggera avete la garanzia che il vostro piede arriva asciutto o al lavoro oppure se state tornando a casa le scarpe sono in realtà un argomento molto particolare nel senso che ognuno ha i suoi gusti ha le sue esigenze la scarpa è anche un oggetto che deve piacere assolutamente però ricordatevi sempre cercate delle scarpe impermeabili con una tecnologia Gore-Tex se possibile e che vi faccia sentire il piede bello sicuro e rigido ma restiamo un attimo sulle scarpe e come ultimo oggetto ho scelto un altro prodotto di Tucano Urbano che sono le Hydro Stretch Hose che vengono in questa sacchettina e che cosa sono? Sono nient'altro che delle ghette veramente molto interessanti perché a parte che sono ultracomprimibili e leggere stanno in un sacchettino comodissimo da tenere nello zaino la cosa che mi piace è che hanno la punta molto rigida quindi serve a fissare molto bene il piede e sotto non hanno la parte che appoggia sul pedale questo ha due vantaggi uno la parte in basso non si rovinerà se l'appoggiate sul pedale quindi magari sfregandolo prima o poi andrà a rompersi appoggiate direttamente la suola delle scarpe che essendo in materiale plastico non va protetta non serve proteggerla perché se scegliete le scarpe impermeabili tendenzialmente hanno la suola che resiste molto all'acqua quindi non lascerà passare l'acqua secondo è la vestibilità perché le trovo veramente comodissime da indossare fatto così sono posizionate tiriamo su la cerniera qua a lato fantastico sono comodissime non mi impedisce nessun movimento nonostante siano molto alte e se poi sopra ci aggiungiamo dei pantaloni come quelli che abbiamo visto prima sempre di Tucano Urbano che vanno a coprire fino a qua beh state pur sicuri che se le abbinate anche a delle scarpe impermeabili in Gore-Tex beh avete tante tante possibilità di tornare a casa o di arrivare sul posto di lavoro con i piedi asciutti tecnologia sempre idrostretch che la rende molto elastica e quindi molto comoda confortevole una cerniera che ha integrata una trappola d'acqua in certificata rifrangenti ha una comodità di utilizzo veramente eccezionale uniti al fatto che sono ultracompatti e stanno veramente o nella tasca di una giacca o nel vostro zaino beh io non li cambierei con nessun'altra guetta sul mercato perché mi hanno salvato da diversi diluvi per la parte bassa del corpo ricordatevi sempre queste tre cose pantaloni impermeabili abbinate delle scarpe anch'esse impermeabili se possibili con tecnologia Gore-Tex e utilizzate delle ghette come queste per rendere la parte bassa quindi quella che si bagna più facilmente perché è più vicina all'asfalto quindi pozzanghere quindi schizzi d'acqua quindi la pioggia che magari anche si muove grazie al movimento delle ruote della bicicletta stessa insomma è una parte non facile da proteggere perché è quella che riceverà più acqua di tutte quindi fate molta bene attenzione sulla parte bassa del corpo a scegliere molto bene la protezione di pantaloni e delle scarpe bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se vi lasciate un bel pollice in su iscrivetevi al canale perché presto arriveranno molti altri video fatti dai miei colleghi Sergio Viganò e Claudio Riotti sul mondo della bicicletta altre selezioni di prodotti per vari ambiti del ciclismo ma non vi voglio spiegare niente anzi iscrivetevi al canale attivate la campanella per ricevere una notifica ogni qual volta pubblicheremo un nuovo video vi ricordo che in descrizione trovate più approfondimenti su tutti i prodotti trattati all'interno di questo video oltre ai relativi link per acquistarli online bene ragazzi a me non resta che salutarvi invitarvi a seguirvi su tutti i social di Bicilive che trovate anche quelli in descrizione e noi ci rivediamo sempre qui su questo canale riparatevi dal freddo e dalla pioggia a me non resta che salutarvi ci rivediamo al prossimo video ragazzi ciao 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 ciao